Thierry Henry, ex-star del calcio mondiale, ha suscitato polemiche in un'intervista in diretta su CBS Sports quando ha affermato che il Napoli non sarebbe riuscito a battere il Manchester City in un eventuale scontro. La dichiarazione di Thierry Henry ha colto di sorpresa molti fan e generato un grande dibattito, andiamo nel dettaglio. Se segui fedelmente il Napoli e non vuoi perderti le ultime notizie, iscriviti subito al canale e attiva la campanella delle notifiche. Nonostante abbia elogiato la prestazione della squadra italiana in Serie A, l'ex giocatore francese ha dichiarato di non essere ancora stato testato contro le migliori squadre europee come il City. Il Manchester City, è al secondo posto nella classifica della Premier League, ha due punti dall'Arsenal, e il suo capocannoniere è Erling Haaland. Durante il podcast House of Champions, Henry ha sottolineato che il Napoli non ha rivali in Italia e gioca un calcio fantastico, ma deve ancora dimostrare la propria abilità contro squadre d'elitti in Europa. Ha citato artisti del calibro di Quara, Simeone, Lobotka e Osimen, che sono una gioia da guardare in campo, ma ha sottolineato che la vera prova della loro qualità sarebbe contro squadre più grandi come il Manchester City. Allora tifosi napoletani, cosa ne pensate delle parole dell'ex giocatore che criticano il calcio italiano? Lascia il tuo commento qui sotto. Se sei arrivato qui e ti è piaciuto il contenuto, lascia un like e iscriviti per non perderti i prossimi video.